Una sinergia che sta iniziando e che necessariamente deve iniziare tra ciò che fa la consigliere di parità e ovviamente l'ispettorato interregionale del lavoro. Una sinergia quindi volta a porre in essere azioni di contrasto alle discriminazioni per le donne nei luoghi di lavoro e ovviamente anche di promozione della cultura delle pari opportunità. Noi necessariamente quindi dobbiamo stringere questa collaborazione condivisa perché oltre che lo recita la legge, noi oggi non facciamo altro che esplicare e quindi interpretare tramite azioni, ecco perché poi la sottoscrizione del protocollo, su ciò che noi vorremmo fare per creare questa task force tra la consigliere di parità della regione Campania e l'ispettorato interregionale del lavoro proprio per cercare di far emergere l'esequilibrio di genere che comunque esistono nell'azienda. Ce ne sono tantissime di denunce per quanto riguarda le discriminazioni sui luoghi di lavoro, ma tra l'altra cosa le discriminazioni sui luoghi di lavoro si vince dai dati statistici.